Civil Week 2024, siamo a Legnano in compagnia di Elisa, che cosa fai? Buongiorno a tutti, io sono Elisa Colombo, sono una educatrice professionale presso un centro socioeducativo qui a Legnano che si chiama Fiorellone e partecipiamo alla Civil Week come partner insieme ad altre associazioni e con il contributo della Fondazione Comunitaria Ticino Olona. In particolare noi ci occuperemo dell'evento di sabato mattina che si svolgerà presso la Biblioteca del Comune di Legnano, nel parco della Biblioteca dove proponiamo un laboratorio per bambini, prima una lettura animata per bambini sul tema della natura e poi un laboratorio manuale per la creazione di bombe e di semi E come mai avete deciso di partecipare alla Civil Week? Perché noi già dall'anno scorso, una volta alla settimana, abbiamo preso l'impegno con il Comune di Legnano attraverso un patto di collaborazione e settimanalmente andiamo al parco Castello di Legnano, che è il parco principale della città a raccogliere i rifiuti, quindi ci occupiamo della pulizia e della cura del verde di questo parco. Un'ottima iniziativa che può essere veramente d'esempio per tante altre realtà di collaborazione sinergica e totale tra terzo settore e pubblico. Grazie Elisa, buon lavoro e buona Civil Week!